Innanzitutto un concetto importante che piano piano sta facendo strada è quello di una corretta abbronzatura, cioè una corretta esposizione al sole che porta sì ad un aumento della produzione di melanina che ha una funzione protettiva. È chiaro che questo qua può essere fatto appunto con esposizioni che devono variare a seconda dei singoli soggetti, cioè se il soggetto ha una carnagione chiara deve fare molta più attenzione da un soggetto che ha la carnagione scura. Però ricordiamoci che sono cambiate le abitudini di vita, la maggior parte di noi ormai lavora in ambienti chiusi, quindi l'esposizione al sole non è più quella diciamo antropologica dell'uomo cacciatore e raccoglitore che viveva all'esterno, ma è di un uomo che spesso lavora al chiuso. Quindi l'esposizione deve essere graduale innanzitutto in maniera da permettere una, anche se minima in alcuni casi, ma una abbronzatura che è un fattore protettivo. Quindi le ore centrali poi bisogna fare un po' d'attenzione perché comunque sia è lì che possono arrivare i raggi ultravioletti e possono essere più dannosi e quindi proteggersi adeguatamente.